Mud Riders River Jump è nato un po' per gioco, è nato un po' per scommessa forse qualche mese fa e finalmente siamo riusciti a metterlo in piedi e realizzare questo evento un po' particolare. Yeah, I can, yeah, everyone, 1080, start, start, start. C'è Livigno con lo snowboard, c'è chi salta anche i fiumi. Siamo a Livigno in Valtellina, qui nello snowpark, Motolino definito il piccolo Tibet, circa 100 rider, tra i migliori al mondo si sfidano ogni anno all'ultimo salto. Siamo a Livigno in Valtellina. 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 Siamo a Livigno in Valtellina.